salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono grace proseguiamo la nostra avventura con il gioco di farmer dynasty ok ragazzi come potete vedere è l'alba ok ho usato il taglio erbe del cespugliatore per pulire un po tutte le erbacce che c'erano nel nostro podere ok come potete vedere ho pulito quasi tutto mi sembra proprio ok da un'altra impressione proprio più pulito più un po più bello più bello ci si 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 ci sta ok vi ricordo che abbiamo terminato di ricostruire di ristrutturare tutte le nostre strutture ok vi faccio vedere anche i punti social ragazzi che sono arrivato 53 mila ok 520 euro va bene semplicemente per il fatto che io sono riuscito a ristrutturare completamente anche tutta la nostra dimora ok proprio tutta dall'intonaco interno all'esterno al tetto alle grondaie e quant'altro ok poi in più ho ristrutturato anche tutto il cancello ok come potete vedere guardate tutta la cancellata esterna ok e per ultimo questo qui non me l'ha fatto ristrutturare ok per ultimo la cancellata questa qui interna successivamente andremo a vedere quando avremo un po di big money andremo a vedere anche il oltre che la ristrutturazione proprio il rifacimento ok guardate che bello tutto il cancello nuovo ok proprio sembra una cosa un po più professionale diciamo diciamo così ok allora mappa ragazzi dunque noi siamo esattamente qua ok la tua fattoria e dobbiamo andare da oliver ok perché ha un trattore che lui non utilizza più e quindi conseguente se andiamo a risistemare gli mi sembra la sua fattoria allora c'è un regalo quindi prendiamo la palla al pazzo e richiamoci da lui no questo è john ok questo è oliver qua dobbiamo andare qua da oliver ok mettiamo nel nostro pick up o non so un pick up che è stato abbandonato qua ok abbiamo anche il pick up ragazzi ottimo anche per il semplice fatto ragazzi che è la prima volta che vedo il pick up tutte le altre partite che ho fatto ad essere una cosa proprio recentissima perché infatti ieri c'è stato un aggiornamento proprio piccolino però in questo caso è la prima volta che vedo il nostro pick up ok bene ci sta ci sta invece che farcela tutto a piedi abbiamo questo poderoso veicolo da 47 40 50 e in aumento 55 km 56 wow stiamo toccando i 60 forse perché siamo in discesa 58 58 bombazza più di 58 mi sa che non fa ok vediamo da oliver bella oliver allora partiggiamo qua vediamo allora prima di parlare con oliver sentiamo se questa ci parla un po' buongiorno 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 buon morning allora bel tempo non è vero ok poi se davvero bella mi sembra un po' eccessiva la cosa c'è qualcosa in cui posso aiutarti non al momento va bene ok hai sentito le ultime notizie ma se prima stava dicendo che era a guardare vabbè ok grazie thanks thanks ok bella oliver come butto oggi ma scusa mi hai chiamato te mi hai chiamato te oliver per sistemarti casa oh questo deve essere il trattore ok va bene allora iniziamo anche se oliver sembra occupato per parlare con non allora ponteggio ok andiamo su 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 ok e ristrutturiamo il todus tutti i i no Ok, tutto fatto. Ragazzi, allora, mi sa che dobbiamo mettere forse, forse, un'altra scaffalatura di qua, un altro ponteggio, vediamo un po', sottotetto qui no, ok, dall'altra parte vediamo un po', vediamo un po', di qua no, ok, dobbiamo vedere dentro, allora, qua mi sembra tutto a posto, va bene, qua muro, ok, un rettino di qua, ok, finire riparato, parla con Oliver e chiedi il tuo premio, va bene, sarà fatto. Allora, smontiamo qua il nostro ponteggio, F3E, ok, e andiamo a parlare di Oliver. Wow, un Jack Burr, Oliver ha perso la voce. It should do well until you can afford a real new tractor, but you can totally start fieldwork now. Yep, my funds are kind of short, but I think I'll need more farming machines. You should talk to people, I'm sure a lot of them will have some work for you too. You'll need a plow, a cedar perhaps, and I've seen a cultivator already on your farm. Good luck with farming. I will look around, thank you. Lucio, Lucio do Xenox, ok, wallet, come mi preferite, va bene, possiamo cambiare fotocamera anche, va bene, wow, guarda che figata, nostro nuovo trattorino, partiamo a Bombazza, via, via. Allora, Oliver, stami bene, ok, torniamo in the house, doveva tornare e prendere il pick up, ok, traffico purtroppo ragazzi non l'hanno ancora inserito, spero che lo inseriscono a breve, anche perché vedendo le macchine passare è una cosa un po' più realistica. C'è un treno che passa ogni tanto, che non è malaccio, ok. Andiamo, andiamo a casa, a meno che non ci sia qualcun altro da aiutare lungo la strada. Ehm, hanno fatto una signora della fattoria, magari sarebbe bello dirle ciao. Ok, possiamo provare, andiamo a salutare gli altri vicini allora. Ok, dirle ciao, ciao. Guarda, would you help me? What can I do for you, ma'am? My brother is working abroad. He should have been back home a week ago, but he's still busy working. I need one of my fields plowed and cultivated. Will you do it for me, please? Use that old plow over there by the barn. You can keep it when you're done. My brother plans on buying a new one anyway. No promises, but I'll see what I can do. Ok, quindi lei vuole che liariamo il terreno. Vediamo un po' in cosa consiste, ragazzi. Attacca il vecchio oratro, va bene. Attacchiamo il vecchio oratro. Mettiamo che faccio un testacoda qua. Di violenza. Ok. Ok. Qua lo abbassiamo, qua lo alziamo, va bene. Arrare il campo. Allora, vediamo un po'. Ok, questo è il campo da che andremo ad arrare. Ok. Nel frattempo, ragazzi, questo lo vedremo successivamente. Nel frattempo vado a prendere il pick up. Ok, così. Questa qua ci regala anche l'aratro. Perfetto. Ci serve anche nel nostro campo. Nel frattempo torno da Oliver. Ok. E vado a raccattare il nostro pick up. Detto anche pick up. Ok. In modo tale che così abbiamo tutto organizzato nella nostra bella fattoria nuova. Ok. Per non lasciare i veicoli in giro, che poi c'è da andarli a raccattare. Destra, sinistra, destra, sinistra. Non ce la chiamiamo più. Quindi è giusto essere organizzato in questi giochini qua. Ok. Ok, ragazzi. Allora, sono tornato dalla tipa. Ho portato il pick up a casa. Ok. Perfetto. Adesso li vado ad arrare questo bellissimo terreno qua. Anzi, casomai lo andiamo ad arrare insieme. Vediamo un po', ragazzi. Allora. Ewe. E partiamo con l'arratura. Ok. Allora, per questo essere il mouse vi fa vedere. La percentuale che c'è il terreno che è l'iterato. Quindi siamo al 3%. Ed è in aumento, naturalmente. 4%. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ragazzi. Ok. Et voilà. Ottimo così, ragazzi. Abbiamo terminato egrigiamente. Bene, bene, bene. Abbiamo un pezzettino qua, giusto per fare le cose fatte bene. Ed ecco, via. Vediamo. Questo cosa ci dice. E? Questo, questa, questa. Aide. Ok. Ok. Hi. Questo. Bel tempo, non è vero? Nice weather, ain't it? It sure is. Ok. Sto cercando lavoro. Sto cercando lavoro. Hai qualcosa per me? No, non al momento. No, non al momento. You don't look so well. Are you all right? I'm perfectly fine, thank you. Va bene. In bocca al lupo. Ci vediamo. You don't look so well. Ciao, ciao. Are you all right? I'm perfectly fine. Dai, dai, dai. Good luck. Good luck, good luck. Va bene. Allora. E anche questo è fatto. Vediamo se la tipa c'è qualcosa a dirci. Ok. Abbiamo fatto tutto. Ciò, ciò. Quasi, quasi. Ok. Torniamo in the house, ragazzi. Ok. Perché, oltre a dover avere orari, dobbiamo anche coltivarlo. Ok. Quindi, andiamo a prendere l'altro azzeggio. Ok. Prendiamo il todus. Questo lo partiamo qua, adeguatamente. Ok. Qua va benissimo. No. Aspetta, 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 aspetta. Allora. Ok. E stacca. Ok. Adesso attacca l'altro. Ok. Torno a Clara e coltiva il suo campo. Perfetto. Allora, torniamo da Clara. A Bombazza, eh. Questa fa 23 km all'ora al massimo. Ok. Arrivati, ragazzi. Abbassiamo il todus e iniziamo. Via via, facciamo una cosa veloce. Ok. Quindi, al rato il 100% coltivato, vedete, 4, 5, 6. Ok, in aumento. Va bene. Va bene. Ok, ragazzi. Perfetto. Abbiamo terminato anche questo obiettivo per Clara. Ottimo. Controllo la mappa. Ok. Riceve 500 punti social. Va bene. Grazie mille, Clara. Perfetto. Possiamo andarcene in the house. Ok. Dunque, vediamo un po'. Innanzitutto, mi ha detto che abbiamo molta, ma molta fame, ragazzi. Infatti, siamo affamatissimi. Ok. E, di conseguenza, il son è l'1 e 08, ragazzi. Io direi che per oggi abbiamo già sgobbato abbastanza. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi sia piaciuta. Nel caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, ci fate un bel like. Ragazzi, prima di seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer. Salute!